La bellezza di un yacht è di poter ammirare il mare, l'arrivo e l'arrivo all'arrivo. L'arrivo in un po' è magari l'ultimo spazio di libertà, qualcosa che ti rilassa molto profondamente. Per noi è una sintesi di innovazione, tecnologia e qualità. Sperimentale, trasversale, collaborazione ed emozionante. L'architettura è veramente un spazio che ti offre un'emozione. Ci si perde mai a bordo di una barca. Il 44 Alloy è l'espressione di quanto sia stimolante a volte provare a perdersi. È una barca che prima ancora di essere stata vestita esternamente è stata pensata all'interno. Il yacht è tutto sulle fluidità. Un corpo umano si muove in una forma più fluida. Quindi quando si entra, si deve trovare la stessa logica dentro, portare la fluidità dall'exterio all'interno. Non c'è assolutamente nessuna razza di trovare un angolo quadro. Io penso che la bellezza di un progetto come Alloy sia anche nella volontà di provare a offrire uno scenario nuovo, uno stimolo nuovo al potenziale armatore. Per la prima volta su uno yacht di queste dimensioni si vede una camera dell'armatore su tre livelli. Questo incrocibile stateroomano su tre livelli è unico nel mercato. Più libertà nell'organizzazione dell'espresso. Quando sali a bordo e entri in quella cabina, hai la sensazione di avere qualcosa di speciale tra le mani. Come se fosse un regalo all'armatore. Una penthouse con una cabina full beam, un ingresso che è uno studio relax e poi salendo si può godere di un mezzanino con vista frontale. Tre livelli diversi che significano punti di vista, significano esperienze sensoriali differenti. È un plan completamente libero, con nessun spazio messo. Le potezioni partizioni che non toccano mai più la struttura della barca. Attraverso un sistema di connessioni, di trasparenze, questa esperienza sensoriale all'interno della barca riesce ad essere estremamente fluida in ogni ambito della barca. La barca è completamente esposta all'interno della barca. All'interno della barca, con la luce in fronte di voi, è qualcosa di unico. Credo che sia l'unica con questa struttura. Questa barca ha un contenuto di innovazioni altissimo. Si usano dei materiali leggeri e sofisticati per mantenere i pesi e per poter raggiungere delle velocità come questa barca di circa 22 nodi. La barca è abbastanzaá di utilizzare dei materiali leggeri e semplicemente, basi, basi, ferie, 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 ferie. e dettagliare la bellezza dei materiali. Il craftsmano potrebbe imparare, oltre loro strumenti, piccoli, micro-eventi, ovunque. Il più consistente, il meno materiali che usate ci permette di avere un'interiore più rilassante e rilassante. La zona di poppa si configura come un beach club gigantesco. Sono circa più di 65 metri quadri con le tre aperture due laterali e l'apertura di poppa del portellone e la possibilità di avere un tender di circa 7 metri. Come lavoro sul beach club si concentrano davvero a creare una sorta di simmetria e una stabilità visuale quando il tender è lanciato. entrando nella beach si rende conto di stare in un luogo dove la barca si smaterializza e il rapporto col mare diventa totale. La relazione con il mare è in effetti per dare un'esperienza che non è quella che aspetti da una terra. La famiglia San Lorenzo ha la capacità di innovare sempre. Tutte le barche rappresentano sempre qualcosa di nuovo e di diverso. Questa è la forza del cantiere che ci differenzia da tutti gli altri. è stata la prima esperienza con la squadra San Lorenzo e tutti stavano nella stessa strada per ottenere nuovi obiettivi. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso è quello da una parte di consolidare l'immagine di un marchio e dall'altro chiaramente inevitabilmente di soddisfare le esigenze e i sogni e i desideri dell'armatore. Il nostro obiettivo è stato un buon tutti i nostri del canale Grazie.